Ciao a tutti, oggi faccio il video degli aggiornamenti cover Iniziamo da Questa Questa è di Tallyway Chi non lo sapesse ho l'iPhone 6 S Quindi la prima è questa Di Tallyway, tutta molle La seconda è Questa Con le gocce d'acqua che Va dal Bianco al rosso Questa l'ho presa al mare Ed è una Spezia di clessigra Dove Sceglie tutto il liquido Da questa parte Poi questa Gliccherata Che va dal bianco al rosa Questa morbiga Con scritto cappuccino Questa con il gelato Presa al mare Anche questa è morbida Poi le sigaretche Poi Questa con su il gatto E' morbida Il bumper La forma di renna Che lo metto in gioco A Natale Tutto molle Vido Eccetera Poi Poi Queste due Che sono uguali Solcanto tra l'una I brillantini E l'altra no Spero che si vedano Questa forma di asso Asso di cuore Questa personalizzata Poi Quelle di Primark Queste le ho prese tutte da Primark La prima che ho preso E' stata questa Che ne ho chiesto un sacco Con il cucano Che si apre E fa del pezio Quindi lì Chi siete voi Questa non l'ho presa da Primark Questa con l'infinito Con scritto love Questa con scritto queen Questa l'arcobaleno Perché adoro gli unicorni E quindi mi ricordano Dove prenderla con l'unicorno E quindi mi ricorda l'arcobaleno E l'unicorno Questa di coppolino E poi E infine Questa Con il pompon E posso metterla E non metterla Questa con le orecchie Che il pompon Posso Metterlo E toglierlo E toglierlo Io lo preferisco Senza Perché se no mi da fastidio Però Anche con E' bello Spero che questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo Alla prossima